Chiusa dal 2018 è mai più resa accessibile agli studenti. I lavori di riqualificazione della palestra nella scuola secondaria di primo grado fermi di Andria si interruppero improvvisamente quando gli operai scoprirono sotto il pavimento la presenza di fibre di amianto. Da allora le attività sportive scolastiche si svolgono nel cortile dell'istituto, in un'area mai asfaltata e dunque potenzialmente pericolosa per gli studenti. Nel deposito accanto alla palestra sono ancora conservati i materiali acquistati per completare il rifacimento del pavimento. All'epoca furono impegnati circa 50 mila euro per le opere di ristrutturazione. Il dirigente scolastico auspica che quanto prima possano riprendere i lavori. La situazione della palestra fermi deve essere al più presto risolta perché parliamo di quasi sei anni, quindi dall'anno scolastico 17-18 che i ragazzi non usufruiscono di questa struttura che dovrebbe essere un fiero all'occhiello per la città di Andria perché è una delle più grandi che abbiamo. Invece non è stata ancora presa in mano la situazione per completare i lavori e consentire ai ragazzi di fare educazione fisica, ma non solo per loro, anche per le associazioni sportive del territorio. La palestra sarebbe quanto mai utile soprattutto agli studenti diversamente abili a cui è stato sottratto per tanti anni un importante luogo di socializzazione. L'appello del dirigente Crescini è rivolto all'amministrazione comunale perché non si perda altro tempo e si proceda alla conclusione dei lavori. Gli alunni diversamente abili avrebbero bisogno di una palestra perché hanno necessità di fare più attività motoria e più attività sportiva e questo è anche un deficit visto i nostri progetti educativi. L'amministrazione abbiamo chiesto un incontro ma tuttora non ci è stata data risposta, quindi aspettiamo che ci sia una parola certa su questi lavori. Dal comune fanno sapere che la scuola Fermi non è stata dimenticata, presto sarà incaricata una ditta specializzata per la rimozione delle fibre di amianto, sarà poi la multiservice a completare i lavori una volta aggiornato il quadro delle spise da sostenere.